Nessuno resterà da solo. E questa è la frase che, come una bussola, sta guidando cuore amico in piena emergenza Covid nei comuni della provincia di Lecce, a portare sostegno dove ce n'è bisogno, ovvero nelle case delle famiglie che hanno necessità, ora più che mai, di una mano per non affondare. La Onlus Salentina, che da vent'anni si occupa dei bambini diversamente fortunati della sua terra e che il cuore pulsante di Telerama, ha per l'occasione cambiato pelle, adattando la mission che la muove da sempre, a questo momento di straordinaria necessità. E allora è partita una raccolta alimentare eccezionale per portare la spesa in ogni casa e il cibo caldo su ogni tavola. Le parrocchie, i sindaci, le associazioni chiamano e cuore amico, in collaborazione con le giubbe verdi, che da subito hanno voluto partecipare all'iniziativa distribuendo le busse della spesa, risponde. In riva al mare di Gallipoli è stato dolce consegnare i pacchi a padre Ignazio Miccolis, della parrocchia Sacro Cuore e a tantissime famiglie. Noi come parrocchia e come Caritas parrocchiale abbiamo ricevuto notevoli richieste di gente che precedentemente questa pandemia ha vissuto sempre per conto suo tranquillamente, adesso invece gente anche insospettabile si trova in gravi difficoltà, gravi difficoltà anche per giornalmente, quello che deve avere e mangiare giorno per giorno. Quindi ecco questa possibilità che Cuore Amico sta dando a questa briciola un po' in questo mare magnum di questa grande esigenza è sempre un buon aiuto, un qualche cosa che viene incontro alle famiglie che in questo momento stanno vivendo un momento di crisi, di indigenza molto profonda e molto difficile per loro, sono un po' credo come tutti quanti preoccupati nell'incertezza del futuro di quello che sarà. E nella città bella la raccolta è stata ancora più ricca, Cuore Amico oltre a consegnare i propri pacchi ha distribuito anche del pesce fresco donato dalla pescheria Il Mare di Gallipoli che la Onlus ringrazia per la grande generosità. Pochi chilometri più in là nell'entroterra gallipolino si sono consegnati i pacchi della solidarietà ad Alezio. Ringrazio Cuore Amico, una bellissima sorpresa questa mattina, Alezio sta affrontando questa emergenza in piena collaborazione con la protezione civile e con la Caritas parrocchiale, c'è bisogno di aiuto, di solidarietà, ne abbiamo tanta necessità, hanno tanta necessità, tante famiglie che si trovano in uno stato di crisi, insieme ce la faremo, diamoci una mano tutti. A Neviano grandi operazioni di scarico e distribuzione di pacchi e buste che finiscono direttamente nelle case dei cittadini che ne hanno più bisogno. La consegna è avvenuta davanti al municipio dove svento la fiera, la bandiera della solidarietà. Fino a questo momento abbiamo affrontato l'emergenza con i buoni spesa, donando anche le mascherine. Ora grazie anche a Cuore Amico per le donazioni aiuteremo sempre chi ha bisogno e continueremo a farlo fino alla fine dell'emergenza. Grazie, grazie di Cuore. Cuore Amico cerca di essere presente ovunque venga chiamato, per questo bisogna continuare a sostenere l'iniziativa. Farlo è semplicissimo, si può donare sul conto corrente 800 della Banca Popolare Pugliese o con un versamento usando l'Iban che vedete in sovrimpressione, con la causale emergenza coronavirus, aiuto famiglia e distribuzione alimentare.